Caffè Cagliari, un marchio storico della Torre Fazione, è qui a Cibus Connet, in questa collettiva di Union Camera Emilia Romagna. Giulio Fontanesi, avete presentato delle novità? Abbiamo presentato tutta la nostra gamma di prodotti, innanzitutto un saluto a tutti. Siamo un'azienda ormai presente sul territorio nazionale e anche export, ormai dal 1909, anno di fondazione. Abbiamo, rappresentiamo la bandiera dell'attualità sia in Italia che all'estero. E queste sono le due nostre teste di serie, le chiamiamo così, e le stiamo presentando qui a Cibus Connet. Hanno, colgo l'occasione, per dire che quest'anno sarà il nostro 112 anno di anniversario e faremo feste, eventi, tutte insieme da noi a Modena. Quindi un invito per voi tutti a partecipare, vitteremo il formato.